Entrando in CAMST si entra in un mondo di persone in cui la persona è al centro dell'attenzione. L'attenzione allo sviluppo della persona è una funzione strategica per il successo dell'impresa. CAMST ha come obiettivo primario quello di sostenere e favorire la crescita e lo sviluppo del proprio capitale umano perché è la chiave del successo dell'impresa nel tempo. Lavorare in CAMST vuol dire investire sul tuo sviluppo professionale e sulla crescita personale, crescere insieme in un'impresa di grandi dimensioni in continua espansione, entrare in un'impresa dove si condividono i principi e i valori della cooperazione. CAMST cerca, sviluppa e premia persone che abbiano non solo solide competenze professionali, tecniche e organizzative, ma soprattutto CAMST è un mondo che premia e sviluppa le doti personali di empatia e sensibilità nei confronti del cliente. Ascolto attivo e capacità di relazionarsi con le altre persone, capacità di entrare in sintonia nel nostro mondo con la voglia di collaborare per raggiungere obiettivi comuni, fantasia e iniziativa per risolvere i problemi quotidiani. L'impegno che ci mettiamo nel far crescere questa impresa cooperativa dipende da ognuno di noi, in questo crediamo fermamente e su ciò fondiamo il nostro successo. CAMST, persone che fanno grande la ristorazione.